Presidente Natta, 11 giugno nuova riunione dei sindaci, insomma una sorta di consiglio provinciale, ormai dobbiamo chiamarlo così e a quel punto si deciderà anche un po' la strategia, allora ci sarà dialogo fra maggioranza e opposizione? Guardi, come diciamo sempre detto in questo mese, da quando mi sono insediato, l'ente provincia ha cambiato davvero pelle e l'ho sperimentato, posso confermarlo appunto dopo un mese di presidenza, cioè proprio la struttura della provincia completamente cambiata da un punto di vista istituzionale. Già questo, diciamo Assemblea dei Sindaci, che è chiamato a dare un parere sul bilancio, sullo schema di bilancio consuntivo che è stato già adottato dal Consiglio, è un organo nuovo, un organo che ha bisogno anche di essere regolamentato nel suo funzionamento e su questo stanno lavorando gli uffici, tanto per dire come dobbiamo, diciamo così, andare a creare diritto per quanto riguarda il nuovo ente provincia. Sul consuntivo che doveva essere approvato entro il 30 aprile quando noi non eravamo ancora insediati, c'è stato un grande lavoro da parte degli uffici, da parte del consigliere delegato Domenico Abbo, che ha consentito già di poterlo portare in consiglio provinciale dove è stata approvata l'unanimità. Ecco, questa approvazione, l'unanimità pur di un atto, tra virgolette, dovuto. Il bilancio consuntivo, secondo me, è già un segnale di un'impostazione che vede il coinvolgimento di tutti in un'attività istituzionale, secondo me, molto alta, molto impegnativa, molto onerosa e, lo ricordo, gratuita per tutti noi. Ci stiamo impegnando molto per cercare di risolvere i problemi di questa provincia che davvero sono tanti, sono tanti proprio da un punto di vista anche strutturale, perché ci sono problemi che non riguardano solo il nostro ente, ma riguardano tutte le province italiane. Uno in particolare vorrei evidenziare che è quello stato di predissesto, diciamo, comune ad altre quattro province italiane, sul quale c'è una situazione in divenire abbastanza preoccupante, perché pare confermato il taglio di ulteriori 5 milioni di euro a carico di queste province, cosa che ha indotto il sottoscritto, la qualità di Presidente, gli altri quattro Presidenti, a scrivere proprio oggi al Ministero chiedendo un tavolo urgente, perché questo taglio potrebbe significare davvero, se non la fine dell'ente, sicuramente un periodo di grandi difficoltà, di grandi crisi, anche per la sopravvivenza stessa. Quindi questo è, diciamo, il terreno nel quale ci stiamo muovendo. Andare a fare discussioni partitiche o discussioni personalistiche credo che sia la cosa più sbagliata possibile, anche perché non risponde né all'interesse del personale della provincia, né all'interesse dei cittadini di questa terra che hanno bisogno dei servizi svolti dal nostro ente.